Buonasera ai nostri telespettatori, questa sera sono insieme a Paola Medri, benvenuta Paola, la quale è una giornalista, ma soprattutto io direi che è un'esperta di razze italiane, forse non solo italiane, vero Paola? Insomma io non ho la pretesa di essere un'esperta, diciamo un'appassionata, un'appassionata per il lavoro che ho fatto, una grande conoscitrice, insomma un'appassionata, sì, conoscitrice in parte sicuramente. Per presentare insieme un libro che è Il Regno Animale, che parla di Cavalli, è un libro del gruppo Espresso, tuttora uscito da poco e tuttora rintracciabile volendo, facendo riferimento proprio al gruppo dell'Espresso, per chi volesse acquistarlo. Ed è un libro, Paola, in cui c'è una lunghissima panoramica di razze di cavalli del mondo, e forse non è esaustiva di tutte, ma... No, penso di no, però mi è piaciuto perché, intanto non è frequente che ci siano libri di questo genere, e tu lo sai, quindi un bel libro sulle razze fa piacere. Un libro che poi è preceduto da una parte di spiegazione della storia del cavallo, del cavallo oggi, come si è evoluta la storia del cavallo insieme alla storia dell'uomo, e quindi è piacevole perché è piuttosto breve e facile da consultare. E poi analizza un centinaio di razze di cavalli, fra cavalli e poni, insomma, sono... Facendo una scheda sulla razza e sull'utilizzo, mi sembra, no? Sì, sì, c'è una bella scheda che loro spiegano di aver realizzato con questo fondo bianco, perché è un antico metodo di valutazione dei cavalli, del modello dei cavalli, già applicato in Cina, fanno vedere anche un'immagine, come già anticamente si mettessero i cavalli su un fondale bianco per vederne la morfologia. E quindi loro hanno utilizzato lo stesso sistema, hanno ogni pagina, ogni scheda della razza è su un fondale bianco, e poi ci sono tutte le spiegazioni delle varie razze, e poi ha qualche curiosità, qualche racconto un po' di come la razza si è evoluta, nel tempo, da che origine ha, e quindi è piaciuto. E di queste razze ce ne sono ben cinque che appartengono all'Italia? Certo, per fortuna. Che non sono tutte, tutte, tutte le nostre... No, no, ci sono le cinque, diciamo, principali, anche se noi ne abbiamo, diciamo, in base alla catalogazione ufficiale, noi ne avremmo sei di razze che sono di libro genealogico. In realtà lì non c'è il Bartigiano, però c'è il Lipizzano, c'abbiamo il Maremmano, c'abbiamo l'Afflinger, nostro averignese, ma insomma chiamato Afflinger ormai, c'è l'agricolo italiano e il Murgese. Quindi, diciamo, le razze più diffuse, se non altro, ci sono tutte. Senti Paola, tu hai esperienza di impatto tra le nostre razze e l'Europa e le altre fiere, no? Che tu hai sempre curato, anche per l'unire? Sì, sì, infatti. Che esperienza hai, che interessi ha, suscitano le nostre razze? Devo dire che è stato molto piacevole andare all'estero portando i nostri cavalli. Inizialmente siamo andati solo con due razze, principalmente col cavallo mare in mano perché era quello più conosciuto e di cui ci chiedevano sempre. Poi, invece, abbiamo portato in Germania e in Francia anche le altre razze che ho citato prima, che sono sul libro, oltre al Bardigiano e al Sella Italiano, che chiaramente di cui poi si occupa anche l'unire. Ed è stato molto, molto piacevole. Abbiamo visto un grande interesse inizialmente, poi molti cavalli sono stati acquistati. Oggi c'è, per esempio, in Germania un bel nucleo di bardigiani che sono stati comprati e poi oggi vengono allevati direttamente in Germania. Quindi abbiamo messo un piede fuori con una nostra razza. C'è molto interesse per il mare in mano in Francia, piace moltissimo. È un cavallo di cui proprio si innamorano perché ha questo fatto legato alla nostra tradizione, montata lavoro, il buttero. E poi, insomma, anche in Francia c'è la tradizione della montata lavoro, come c'è in Spagna. Quindi, insomma, piace moltissimo. Ma soprattutto, ecco, c'è stato anche un giro dal punto di vista commerciale. Cioè, i cavalli sono stati comprati. Quindi abbiamo avuto un riscontro vero, insomma. Senti, queste sono prevalentemente razze da campagna, no? Sì. Sostanzialmente, insomma, come anche le altre biodiversità, i piccoli nuclei. Certo. E quindi, diciamo, sarebbero i cavalli giusti per il turismo equestre, di cui tu hai una certa esperienza. Per un po' di anni, sì. Credi, ecco, se tu dovessi consigliare una razza da turismo equestre, quale sceglieresti tra le nostre? Ma sicuramente per la tranquillità, per il carattere che ha, il Murgese va benissimo. È un bel cavallo di una struttura bella e alto, con un piede abbastanza sicuro. E quindi un cavallo che ho verificato, molti anni utilizzano, e il Maremmano, vabbè, non lo dico nemmeno, perché si sa, è chiaro. Diciamo che questi due, anche il Bardigiano viene molto utilizzato, anche se il Bardigiano, ma un po' tutte queste nostre razze, stanno cercando di trovare degli spazi un po' in tutte le discipline. Per esempio, quando li abbiamo presentati, e li presentiamo nelle varie fiere, sappiamo che tutti oggi si stanno presentando per fare un po' tutto, cioè quelli anche, per esempio, il Bardigiano va benissimo anche per gli attacchi, per un attacco leggero va benissimo. Il Lufflinger l'abbiamo visto anche in Monta Western, quindi, diciamo, c'è un po' questa tendenza, anche perché queste razze continuino a sopravvivere, trovino degli utilizzi nuovi, di impiegarli in più discipline. Chiaramente il turismo equestre ci vuole un cavallo grande, un cavallo tranquillo, sicuro, che ci abbia un piede sicuro in campagna. Senti, è del tiro pesante e rapido? Perché io assisto con grande, diciamo, simpatia agli sforzi enormi che stanno facendo di trasformarlo sempre di più in un cavallo che serve a tutto fuorché a quello per cui... Sì, noi abbiamo inventato di tutto durante manifestazioni, compreso farlo vedere mentre faceva il vecchio lavoro del taglio dei boschi con i tronchi attaccati, farlo vedere attaccato, montato. È un po' dura perché, certo, è un cavallone, è un cavallone che è impegnativo, insomma, dal punto di vista anche della gestione. Però mi dicono che... Io non l'ho mai montato, però mi dicono che sia anche un cavallo molto docile. Beh, dei cavalli, diciamo, pesanti come lo Scheir, eccetera, tutto sommato li stanno riutilizzando, no? Addirittura anche in dressage. Come no? Ci provano. Anche i francesi, ho visto che stanno lavorando tanto, loro hanno sette razze. Sì, loro hanno un parco, diciamo. Le loro razze sono prevalentemente razze. Sì, sì, e ci tengono molto, le preservano, le presentano, cercano di comunque mantenere questa cultura del cavallo agricolo, del cavallo da tiro. Però, insomma, è un po' più difficile perché è chiaro che, insomma, lì stiamo parlando di un cavallo che comunque ha un uso più agricolo, insomma. te lo dice il nome, te lo dice la mole. Però, effettivamente, insomma, riportarlo in montagna e sostituirlo, come poi è accaduto, anche dicono che i nuovi muletti elettrici per gli alpini non funzionano, era molto meglio il vecchio mulo. E lo so, e lo so. E quindi forse... Diciamo, ci si prova, anche penso che anche l'associazione di razza sta facendo questo sforzo. Sì, stanno facendo un grandissimo sforzo. Come dicevo prima, quasi tutte le associazioni stanno facendo questo sforzo, di far vedere che queste nostre razze possono avere un utilizzo diverso da quello che era il semplice lavoro agricolo, insomma, il semplice, non era semplice, insomma, il gravoso lavoro agricolo in campagna o... Insomma, oggi è chiaro. Vengono da un passato, da molti punti di vista, anche molto affascinante, ma insomma, non per questo non hanno un futuro, anzi. Ma il cavallo penso che si sia salvato e si continui a salvare proprio perché è riuscito a evolversi insieme all'uomo. E oggi ci si sta provando, no? Ci stiamo provando. È un animale molto plastico. Ecco, sì, sì. Si vede anche dall'evoluzione le razze, tutte le razze hanno avuto un percorso... In questo bellissimo libro. Sì, veramente bello, piacevole. Grazie mille Paola, buonasera. Grazie a te, grazie a te.